zarrillo una rosa blu è meraviglioso sentir cantare così bene su radio italia solo musica italiana però dovete ammettere che noi che abbiamo diciamo non esattamente un'abilità nel cantare non siamo emarginati e allora arriva l'appuntamento del martedì mattina con le lezioni di canto grazie a patrick le lezioni di canto con paoletta e patrick cara paoletta oggi ci ti parlerò vi parlerò del passaggio e quindi l'argomento di teoria abbastanza importante quindi come faccio ogni settimana cari ascoltatori chiedo a paoletta paoletta sai che cos'è il passaggio quello che chiedo quando sono a piedi perché la macchina mi lascia prevedibilissima prevedibile e questo è il passaggio il passaggio patrick la teoria non ce ne frega niente noi vogliamo cantare allora il passaggio paoletta con passaggio di registro si indica un cambiamento nella frequenza della voce il più comune è quello dalla voce di petto alla voce di testa no eh di petto dobbiamo fare un'altra lezione l'abbiamo già fatta questa cosa vogliamo fare una canzone in cui faremo il passaggio nel cambio di registro aspetta aspetta allora ascoltatori di radio italia stonati tutti insieme a me pronti quale canzone facciamo è una canzone che ha un po questa cosa e comprami di viola valentino mi piace mi piace mi piace una bella idea però ti devo dare l'accordo l'accordo così comprami comprami così io sono in vendita brava e non mi credere irraggiungibile ma un po d'amore un altro un attimo capolavoro un uomo semplice una parola un gesto una poesia ma non è così mi basta per venir via felicità è una canzone pazza che cantare mi va una musica che prende che ballare mi va comprami io sono in vendita abbiamo un applauso e chiudiamo questo non mi credere questo spettacolo indietoroso in aggiungibile dopo c'è il ricovero lontanete basta